Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questo video. Oggi vi presento un box realizzato in collaborazione con l'azienda Pugliami in occasione della festa della mamma. Intanto Pugliami è un'azienda pugliese gestita da due sorelle, Annika e Deborah, le quali praticamente ci tengono ad esaltare la bellezza della Puglia che è una ragione davvero splendida. Nel dettaglio comunque tutti i loro cosmetici sono a base di olio d'oliva extravergine appunto pugliese, oltre ad essere ovviamente cosmetici, eco-friendly, biologici, vegani e naturalmente cruelty-free. Quali box abbiamo pensato io e nel dettaglio Deborah? Abbiamo pensato una box viso anti-age e una box corpo idratante. Grazie a tutti. La box viso anti-age è andata da due prodotti che sono la crema viso anti-age, è il contorno occhi anti-età. Contorno occhi con aloe, olio d'oliva, abbiamo glicerina, olio di cocco, burro di caritetto e coferolo al suo interno. Questa appunto è la confezione. Queste sono 30 ml di prodotto contenuto nel suo scatolino. Questa invece è la crema. È nel dettaglio una crema contenuta nel suo barattolo. E questa è nel dettaglio la consistenza. Potete vedere nel palmo della mano come si assorba velocemente. Due referenze comunque perfette per chi ha una pelle matura, per chi comunque ha bisogno di prevenire e coccolare la propria pelle. Comunque in una fase della vita in cui abbiamo una pelle che tende a mutare, a cambiare, che ha bisogno ancora di più comunque nutrimento e attenzione. Nel dettaglio questa crema viso la sta provando anche mia mamma. che si sta trovando bene. È una crema leggermente più corposa rispetto a quella che le utilizzava prima. Però comunque è una crema che si assorbe facilmente, come ben vedete. Non unge la pelle. Ma indicata sia per il giorno che per la notte. Comunata con attivi appunto molto ricchi. Che la rendono un prodotto perfetto per una pelle particolarmente bisognosa. Bisognosa di nutrimento. E una pelle particolarmente matura. Questi sono quindi i prodotti contenuti nella box viso anti-age più un accessorio a sorpresa. Passiamo alla box corpo idratante lenitiva. Include cinque referenze. Ha mini size da 100 ml del bagno schiuma. Questo bagno doccia idratante lenitivo. Ha l'olio ex vergenito. I va con aloe vera e calendula. Ideale sia per le pelli sensibili. Io l'ho utilizzato. Questa è la seconda confezione. C'è la prima l'ho utilizzata. Ed è un prodotto ideale sia per una pelle comunque reattiva. Ma anche per una pelle sensibile. E per una pelle bisognosa come la mia di nutrimento. Quindi è davvero perfetto. Comunque anche la travel è perfetta da portare anche in viaggio. Ha una consistenza leggermente cremosa, corposa. Quindi tante volte vi conviene agitarlo per farlo uscire dall'erogatore. Però davvero ne serve davvero poco. Genera una schiuma davvero molto delicata. Ed è perfetto appunto per un po' tutte le tipologie di pelle. Va davvero molto bene. Lascia la pelle idratata. Difatti potete anche evitare volendo di abbinare la crema. Perché comunque lascia la pelle davvero molto idratata. Altro prodotto che troverete all'interno è la crema piedi e gambe. Che io sto utilizzando quasi finendo. Ed è una crema a piedi che mi è piaciuta moltissimo. Arricchita oltre che con olio d'oliva. Troviamo all'interno anche il mentolo. Toccoferolo. Ed è un prodotto perfetto. Della produzione appunto molto fresca. Perfetto da utilizzare. Per chi come me ha dei piedi. Bisognosi appunto di nutrimento. Perché nuta davvero molto bene. Anche a rinfrescare e allenire eventuali rossori. Quindi davvero è davvero un bel prodotto. Che vale la pena provare. Specialmente ora che stiamo andando incontro all'estate. Lo si può utilizzare anche come impacco. Quindi mettete una generosa dose di prodotto in tutto il vostro piede. Magari nelle zone più secche. Andate ad inserire un calzino di cotone. E lasciate il prodotto comunque agire. Al fine di nutrire in profondità. Quindi davvero un bel prodotto. Altro prodotto che troverete in questa box. Sono la crema a mani. Che ancora non ho avuto modo di provare. Però è una crema a mani diciamo arricchita sia con olio d'oliva. Ma anche con aloe vera e olio di argan. Quindi ha un'azione sia nutriente ma anche protettiva. E al tempo stesso idratante e ricostituente appunto per le mani. Una crema che dovrebbe assorbirsi velocemente e non undere. Cosa che comunque è molto amata comunque da chi va sempre di corsa. E cerca un prodotto versatile. Ma allo stesso tempo molto comodo e pratico. Per le salve sarai il latte dopo sole. Questo latte è un latte rinfrescante lenitivo. Quindi da applicare magari dopo la doccia. Al fine di rinfrescare e regenerare la pelle. Infatti è arricchita con calendula e con aloe vera. Allo suo interno. Oltre che con burro di caletè. Con toguferolo. Con argan. E quindi con tanti altri estratti. Che andranno a lenire, a irritare. E diciamo rinfrescare la pelle. Dopo che è stata esposta appunto al sole. Il prodotto che troverete è questa diciamo scatolina. Contridente due travel sites. Proprio da portare in viaggio. Molto comode. Sia della crema mani. Che quindi sarà un 30 ml. Sia del bagno doccia. Che quindi sarà un alto 30 ml. Quindi all'interno di questa scatolina. Troverete due 30 ml. Della crema mani. E del bagno doccia. Quindi magari se partite per un weekend fuori porta. Sono ideali da portare con sé. Ora la promozione Pujami. Della box viso anti-edge. Della box corpo esotante lenitiva. La promozione che sarà valida. Pujami su tutti i rivenditori. Che aderiranno appunto all'iniziativa. 29 aprile al 5 maggio. Come è possibile approfittare della promo. Vi basterà inserire nel carello. Per la box viso anti-edge. Codice che vi sviso. Per la box corpo irritante lenitiva. Il codice Balex Corpo. Spero che queste box vi piacciano. E appunto fatemi sapere al tempo stesso. Anche se avete avuto modo di conoscere questo brand. Di cui sicuramente. I mesi vi parlo attentamente. Delle varie referenze che appunto sto provando. E che vi ho citato appunto durante il video. Grazie ancora a Veronica e Deborah. Per questa opportunità. Approfittatene. Ciao. Ciao.